Si chiama Apre di Nido ed è l'iniziativa Terra Nuova che prevede per la giornata di sabato una visita dei neogenitori all'asilo nido cittadino e in questa occasione sarà possibile dunque conoscere non solo la struttura stessa ma anche tutte le metodologie applicate dagli insegnanti. Sabato la struttura dell'asilo nido del comune Terra Nuova sarà aperta a tutti, soprattutto ai genitori. Viene fatto sabato dalle 15.30 alle 18.30 proprio perché il prossimo 31 maggio scadono i termini per la presentazione della domanda dell'asilo nido. Quindi tutti i bambini dai 10 mesi ai 36 mesi che un altro anno vorranno frequentare l'asilo nido, i genitori dovranno fare la domanda entro questi termini. È importante aprire ai genitori le strutture perché appunto trattandosi di bambini molto piccoli è opportuno che il genitore si renda conto sia della struttura che anche della qualità educativa. Simpaticamente dunque si invertiranno anche i ruoli, saranno le insegnanti ad essere interrogate. Le educatrici saranno a disposizione dei genitori sia per vedere gli ambienti ma soprattutto anche per rispondere alle domande che i genitori vorranno fare. Appuntamento dunque sabato nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.